Continuo allo screening del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado qui in provincia di Catania, abbiamo istituito 5 punti, uno a Caltagirone, uno a Paternò, uno a Randazzo, uno ad Acireale e uno a Catania. In questi punti di riferimento tutti i presidi e tutto il personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado potrà rivolgersi per eseguire il test sierologico rapido. Ringrazio i sindaci che hanno dato un loro contributo di grande disponibilità e ci hanno offerto questi punti di raccolta. L'invito è a fare più test possibile perché questi test ci permetteranno di raccogliere la storia anamnestica di ogni istituto, sapere quante persone sono eventualmente rimaste o state a contatto col virus nei mesi scorsi. E questo ci consentirà di avere non solo e non tanto un dato epidemiologico ma anche ci consentirà di scrinare col tampone tutte quelle persone che a contatto col virus sono state, quindi per escludere che siano ancora positive e quindi far partire l'anno scolastico in serenità come è giusto che sia. Grazie a tutti.